Ciao a tutti, sono Carlo Vanzini. Oggi vi volevo proporre una ricetta a base di risotto, bonarda e taleggio. Per fare questa ricetta bisogna prendere il riso, metterlo in padella, tostarlo. Una volta tostato verrà aggiunta la salsiccia sgrassata e verrà aggiunto il bonarda. Una volta sfumato il tutto e portato ad ebollizione lo mantecheremo con il taleggio. Questo piatto può essere benissimo abbinato con un vino corposo, ben strutturato, magari un vino toscano e perché no? Provate anche voi!